si siamo qui con end boss smile ragazzi ciao io sono la schiglia non sono end boss smile sono la schiglia bravo comunque ragazzi oggi siamo qui lo studio perché naturalmente ora andremo fare la classificato sempre comunque scusateci se mercoledì in alcuni video si sente il mio eco forse va peggio non si evitare no è la playstation di merda che fa così ok ok caricato vai e ti avrò qua e butti la bomba qui fuori e dove posso bloccare vabbè dopo ok li diamo qua sono da quest'altra parte chiudo eccolo no ma perchè io non ti faccio più avviare le pastiche basso tutto il cazzo perchè perchè va uscita sempre artificieri ti odio eh mi dispiace mi dispiace tantissimo dai però che falle oh butta qua veloce veloce c'è quanto qua no lo fa no vabbè la vada prima dopo allora devo ancora barricare niente che parliamo qua c'è un po' Sì, va attento, la finestra è aperta No, è qualcosa di doppio Eh, credo che l'ha aperta Lui No, merda, merda Oh, bari d'acqua, morti Ormai se conti qua sotto Così se devi lasciare Boom Ehi E però, cazzo Mi sollevato Ecco la mia telecamera C'ho la telecamera per scrivere, ho capito Minchia, come l'ho messa Ma no, ma ci stanno devastando No, l'ho ferito solo Purtroppo l'ho ferito, l'ho solamente ferito Vai, aspetta, ti voglio far esplodere Vai, adesso No, è successo un cazzo Sì, ci stavo con il suo mouse Eh, vabbè Non potevi fare niente No, ma perché c'è la montagna Ma boh, con montagna non potevi fare niente Ma cosa l'avete fatto a morire tutti? Non lo so 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 Che livello sai tu? 73 Vediamo per più giù 61 Vesso qui 84 E' 40 Ok 25 Lo so Continuo Non so Tipo di anni 100 200 Scommettiamo No, no Oppure sono dei diamanti Che si sono fatti un secondo account Se veniva diretta Da Ti immagini Ti immagini Ah, boh, ma per esempio di avanti Può darsi pure che non so Forti e son debole Hanno vinto solo per dare uno scuola Ah, questi è già di avanti C'è di quei ragazzi di cano Ah, boh, che ne so Se la loro squadra era forte E loro son debole Guarda se Se so Come ha detto No, che buce del dolore Eh, è proprio scondiglio bellissimo Eh, guardi dove mi son messo Oh, un'idea, un'idea Gira, dire, sarà abbaticata con la sala Mi salta al Cisopra Abbaticata con la no, quella Beh, mi hanno fatto il dolore Ok, andiamo Ciao, ciao Ciao Perché quello con il disinescatore sparato dall'altra parte del mondo Andiamo a crepare Beppe Andiamo a crepare Beppe Ma non c'erano andate le camera lì Da sotto, dite e due Oh, attento eh Ma io mi è andata qua Così che faccio? C'è così Metto qua Metto così Ecco, guarda Faccio un buco Ecco Ok, vai Vai, dai vita Minchia Madonna, io so più mille Oh, guarda che nascondiglio Madonna Vai, morite Ho 19 di vita Ho 19 di vita Ho 19 di vita Vabbè, sono morto Come mi ha preso? Vediamo Wow, no Cioè, io non vedevo loro Invece loro mi vedevano notare il quale Ok Vai Vai Attento Chi ha il disiniscatore? Quello Quello lì Attento Mi sono Di là Ecco Bravo, bravo Ok Mi ha vendicato Minchia Attento Minchia Eccola Eccola Mira Vai Ci so Pure Quell'altro Vai Fai wallbang Ma dai Ma come fanno a shottarmi? Dovevi fare wallbang Eh Ce la può fare questo Eh Ce la può fare Sono aspegato No, non passai da qua Non passai da qua Non passai da qua Non mi sa Ne manca uno Ne manca Mi dago sotto Ma quello Si deve muovere Oh merda Oh Dio Stupido Dai Dai Grande Grande C'era Io Allora le metodide Sono servite Buona Capitana Genius Guarda Sai che Se questo Se già c'era Più bravo Era già Mostro male Questo Ah si Guarda Se è una combo letale Cos Mute O custom Perché 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 Mute E custom Non sai che combo fai Cioè Perché Questa serve una caricata di azione Oppure sledge Deve entrare Se non hanno sledge O touch Questi non entro Che non posso usare cariche da azione Ma giusto Vabbè Ma con una ventina di colpi Si distrugge Così costo 12 Eh 12 E intanto Li sentiamo Li facciamo il giro E ammazziamo Giusto Giusto Vabbè Ok Facciamo Dopo Che cazzo Me l'ha fatta un better focus Oh no Oh fai qui Ah No Vabbè Mi prendo Ho barricato Prima tutto Tutto Allora Che cazzo Qua non posso entrare Impossibile Prima Guarda qua Che cazzo Fatto Oh What No Che cazzo fai piri e c'era troia sei nuovi di un cazzo merda anche forse e bambino mai faccio il giro ma non ha rotto il cazzo questi sono morti soppi minchia eppamì ti prego no non ci credo vuole fare una tripla oh sorry pepe te non ci si tre te non ci si tre ce l'ho avuto oddio ricarica ricarica bene bello dell'individuo se la stella scappa scappa allora nascondi da una pasta ma nulla bene ho il mio figlio spinati sta facendo male stanno sinistra nooo nooo stavo quello fuori porca droia guarda se avevi un mitra era morto questo appunto merda ah questo qua l'avevo ferito io eh ci sono tutto quella cosa no c'era impossibile con ferito c'era impossibile con ferito si metto glass ci sono una strana a sinistra ma sai perchè non è morto no di chi ne ho quattro avevo usato due sulla battita da qua e gli altri e me hanno rimasti due e tre finisperati allora i primi due ci avevo messo il coso del bandit invece l'ultimo non c'è la mia si appunto vabbè comunque oh merda sono qui dentro attenzione ragazzi attenzione pepe computer computer il computer nooo ma è il minchia oh ma tu giochi al piccolo carpentiere col mio beh o se allora che giochi al piccolo ragazzi mamma giusto tutto come cazzo dove cazzo mi hai messo appunto mi piace mettiamo potre anni ma dove cazzo spawni o perchè il disinnescatore spawno a 2 km di distanza non lo so ma loro stanno dove stavano prima ho fatto un a 2 rocciotti ma dove mi ha fatto un a 2 rocciotti tanti aspetta no tompere no tompere no tompere allora abbastati vieni vieni qua adesso come possiamo fare tu metti ah no non si può fare aspetta dove dove stavano qua se l'ha facciato si è morto io vieni 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 vai vieni ucciso ok vai ucciso non ti preoccupare distruggi la porta vai vai vieni vieni piaccia il disinnescatore ti copro ti copro aspetta li sento eh eccolo guarda è libero entra è libero è libero puoi entrare murdi ok ok aspetta no se è qua questo è qua boom ok grande cioè noi in attacco diciamo in difesa vediamo ah boh ha deciso mira grande chi l'ha ucciso tu? no no dove sta bene bene io mi prendo castle anzi no io mi prendo tutto io mi metto metti di castle ok questo ah questo è il mononente appunto sei sicuro che le cariche di reazione no non funziona ok questo è l'importante manco le cariche esotermiche ma io sì ok ah ma la delle non hanno sledge però ho sledge per Mike però non li hanno usciati di nuovo va appunto allora insomma di là oh tu lo mettiamo dopo la cosa preparata si ah qua non volevo qua volevo ma si possono portare pure questa è a sinistra no non blocchiamo tutte le porte ah ma pure quale dove mi scordi sangue dammi l'intanzo l'intanzo questo è qua finestra bloccata ah perfetto oh ma qualche idea non butta il coso fuori ah bene questo è qua non so allora alla messa se non ho sbagliato a metterla no 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 non aiuta veloce e bravo ho chiuso giusto in tempo madonna ah beh sì, si muove sappi che questo è un po' sentito ma li posso ammazzare ah pure qua e qua oh sono qui li vedo porca androia perché non li ho messi così mute li ho messo dai ma come faceva cioè questi sanno preciso dove sto dove si so sono entrati sono entrati ma dai ma sono di alcuni tu dai che almeno questo vanno lo sento tutte come cazzo si barica la peggio no non ci credo oltre che mi ero barricato soppuremo non lo so non lo so ho no idea ma perché non si mette il pompo con esso no va bene lo stesso il video non è potentissimo guarda che bellezza minchia minchia no 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 è morto ok bene 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 minchia solo perché avevo lo scudo madonna è vero o se ne ero già morto perché la pistola di perché è potentissimo guarda seppure ho avuto lo scudo madonna questo è già questo è il cinque questa la dobbiamo vincere per forza non lo so pure in quattro vabbè vinciamo scioglie ma che mi prende eh neanche io lo riparo ok vabbè vediamo qua prima cosa cambia il punto di spawn metto lo spawniamo a valla no ma ci sono il might appunto spawniamo a valla ciao 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 addio abbiamo trovato la bomba la bomba bianca l'abbiamo trovata perché si ammazzano sempre a vicenda mi sono scontro a pari cosa vai se ci sono a vicenda se ci sono a vicenda e non le volte proprio della spostitità a me io ho già dovuto essere d'oro invece sto a bronzo e faccio più o meno 6 kg appostito bene beh so già circoli peppe oh no peppe venite a me peppe peppe qua ok come vengo mi sa per il tuo coso mi sa sperare si arrivo su quel modo o là mi sa più ok stai pronto no proprio là mi sa più no proprio là mi sa più qua no vai si vai ok vai vai attiva si vai in onda ok ok vai ultimo nemico rimasto ok vai ultimo nemico rimasto andevo fammi scuola a me del video cioè guai guarda ande wow facilissimo questo guai scuola ci ammazzano pure dopo qua abbiamo vinto passiamo 3-3 ma il mio massimo di kille che ho fatto sta durando veramente tanto questa parte del minuto di nuovo termite cioè mi metto termite perché tengo proprio l'arma tutta modificata cioè massimo mi metto mi metto no ci sei bapato eh vabbè me lo son messo prima io eh no vabbè togli e spiegare un operatore che posso mettere sono un coglione sono co 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 si vabbè se sono sfreddo tieni tieni le granate a gas scusate io scendo te lo vedi già ah ma va 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 ti hai le granate a gas eh no cioè non mi ricordo no perché non c'è un mozzo che qua non c'è un mozzo non c'è scherzo il giugatore come lo c'è scherzo il campionario più quale che non si ammazza non c'è scherzo il giugatore eh bravo l'altro è mira l'altro è mira che non mi ha scansionato il giugatore è stato recuperato procedere di innescare la pompa ah non ti ho detto di coglione ma perché spazi si è avvenuto il nostro posto del mondo boh oh vieni per tu qua vieni mi stanno che le granate a gas si no non do vado bene sotto ok va vai piazza piazza non mi fa piazzare vai mu lo puoi fare vai ma scusate di ok vai vai attiva 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 dio uglioni e' mo' io rompio aspetta si è bugato cuda v'ha fatto la terribla quello minchia nooo perchè ti sei buttato avanti perchè ti sei buttato avanti no son morto perchè stava l'accento della nana e mi spavo una cosa davanti che ho visto ok attimo ultimo uomo per la mia squadra affatto mappi fumogeno devi andarti da qui come se adesso cosa non so bene aspetta minchia penso che non ti ti andi ma non posso fare il giro sinistra lo so lo so da vedo no dov'è guarda che figata sti scontri allora non vedo niente dai piazza intanto no 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 eh abbiamo perso giusto dai ma che c***o abbiamo giocato meglio madonna ci sono un po' sbagliato tuo eh beh è stato difficile però comunque no secondo me dovrei andare da un altro lato o quello piazzavo i letti spostati eh ci sono quello che mi puntavo se mi spostavo subito mi vedeva vabbè facciamo questo altro match supplementare io fai la combo di prima no 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 che combo cap can io tengo cap can no mettiamoci nei controlli i tuoi canali dai 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 spero di controllo wow guarda il primo come ragazzo sta giocando il primo che c***o è il primo punto ma perché siamo in cantiere beh boh la squadra d'attacco ha trovato una bomba no dai vati ehi oh la sopra mi sono abbaticato oh chiudete qua dovete chiudere un attimo qua no non ce li ho più ma chi chiudere a botola si un attimo guarda qua la mia trappola guarda la mia trappola guarda la mia trappola aspetto è visibile bro non è un cheat vuol dire non si può vedere guarda la mia trappola guarda la mia trappola guarda 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 dove ho messo non mi manco la capo non me la pezzata ehi dove dove vado a morire vai faccio attacco kamikaze no che culo che culo spacciato aspetta ma io non so ci so ok due uccisioni l'ultimo attaccante dove cazzo sta quello lì che è cerca di individuarmelo grande genio grande genio grande genio grande genio intanto è morto così cosa dobbiamo vincere questa e poi abbiamo fatto dobbiamo vincere l'ultima proprio l'ultima diciamo così ok and oh cazzo ok and che si è messo fuse oh ok allora ragazzi questo video durerà più tempo visto perché il video saremo durano tanto eeeh boh it's normal che durano it's normal intanto ci sanno brilli sui miei barconi sui miei barconi hai di caso? non hai trovato una bomba eh dettagli dettagli perché ce l'ho dirlo sui miei barconi non lo so ahaha ha visto che hai barconiato la youtube è più forte del mondo ha detto allora va no si si tu ecco ma siamo 4 vs 4 ti prego ti prego ti prego non crashare no asistito ok non è morto 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 ma dai dove stai passare eeeh che bello ok non mi stai smalendo eeeh bravo sei crashato eeeh sono felice eeeh ci so ci so ho fatto 8 round mi fai crashare nel più importante bebe bebe vinci per me bebe fallo per me per me devi vincere no non ci credo no bebe fai schifo devi vincere per me wow per sbaglio sono caduto per sbaglio madonna mia non ci credo sono un cosignore lo so wow se non crashavo se non crashavo poi mi eravamo vincere eh appunto vai che cazzo abbiamo perso ovviamente mi abbassa il che cazzo che cazzo mi abbassa merda abbiamo perso minchio non ci credo sconfitto è giusto appunto sconfitto è giusto vabbè ragazzi per questo video ti raccomando lasciate la dispergolata e ci vediamo la prossima bella vai ragazzi eeeh